Drogati per produrre di più, la denuncia viene dall'associazione in migrazione che da anni lavora accanto alle comunità dei braccianti SIC dell'agropuntino. Il servizio di Matteo Parlato. Doparsi per lavorare, siamo riati a questo? Abbiamo scoperto questo a pochi passi, a pochi chilometri dalla capitale. Una comunità, quella SIC, che è schiavizzata nei campi, 15 ore di lavoro, ritmi insostenibili, per sopravvivere, per produrre di più, viene indotta a doparsi, doparsi con anfetamine, con oppio, che sono distanti da quella cultura ma che sono cosette a farlo per resistere semplicemente. Una condizione veramente disumana, incredibile, che rappresenta l'ultima frontiera dello sfruttamento del bracciantato agricolo migrante. C'è una presenza di lavoratori che utilizzano il doping per sopportare le fatiche nei campi, ma lo fanno con grande fatica e con grande disagio psichico perché la religione SIC impedisce e obbliga. C'è un diviedo palese nell'utilizzo di queste sostanze. Ci hanno parlato della dignità di questi lavoratori. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere invitati nell'abitazione di uno di loro e abbiamo visto con quanta cura, con quanta attenzione, tengono la loro casa. Come ti chiami? Jessica. Tu studi in Italia? Sì. E che cosa vuoi fare alla grande? Non vuoi fare domande stupide ai bambini? Medico. Medico. Che coltivate nell'orto? Nell'orto abbiamo questa, diciamo, peperoncini piccanti, questa beda, questa citrioli, quella insalata all'ottuga, quelle cipolle indiane, oppure quelle cipolle indiane, quella menta. Come sono le cipolle indiane? Le cipolle indiane vuole dire che sono rosso sotto. Me ho. No, noi siamo andiamo ecco.